Un ringraziamento pubblico alla Giunta Messunese e al Consiglio Comunale per aver preso con coraggio la decisione di affidare lo stadio Vincenzo Presti al Gela Calcio. Lo sfide in una nota il club Biancazzurro, riferendo che nelle ultime ore si sono svolti degli incontri tra la stessa società calcistica e l'amministrazione. E come detto si è parlato della gestione dell'impianto sportivo di Contrada Giardinelli. Dunque si profila all'orizzonte un ritorno al timone del club del patron Angelo Tuccio. Lo stesso Tuccio ieri pomeriggio ha seguito la partita amichevole con il Real Avola che si svolta sul terreno di gioco amico e che si è conclusa sull'1-1. La situazione drammatica degli ultimi giorni di missioni Tuccio società in vendita dovrebbe essere solo un ricordo. Si attende fiduciosi. Intanto la squadra prosegue il ritiro pre-campionato agli ordini del tecnico Totò Brucculeri. Ai nostri microfoni il capitano Alessandro Bonaffini. Ce l'avevo incontrati a fine campionato festeggiando davanti al pubblico amico la promozione in Serie D del Gela. Ci ritroviamo a distanza di tempo. Con quale spirito stai cominciando la nuova stagione con una maglia bianca azzurra? Considerato che tu se vogliamo hai utilizzato più volte un termine. Io nutro nei confronti del Gela e del Gela Calcio un amore incondizionato. Sicuramente è sempre un onore vestire questa maglia. Sappiamo che è una maglia gloriosa, una società importante. Si vive in una città bella dove è veramente un piacere giocare a calcio. Quindi hai detto poco fa a Bene Tu che si riparte dall'endusiasmo che abbiamo lasciato lo scorso anno. Quindi si riparte sempre con la solita voglia e determinazione di cercare di fare bene e portare avanti questo progetto. Avete costruito un gruppo solido. Arriverà anche qualche altro giocatore però lo zoccolo duro è rimasto. Coloro i quali l'anno scorso hanno spinto la nuova gialla bianca azzurra alla successo finale sono qui. Sì, credo che la società ha operato bene nel mercato partendo dalla base dello scorso anno, dallo zoccolo duro e attorno a noi costruire un mosaico con dei giovani di buona prospettiva, con qualche over anche se ancora è da completare. Però credo che la società su questo ci sta lavorando. Però la Serie D non è l'eccellenza? Sicuramente andiamo a affrontare un campionato difficilissimo dove la D si può dire che è quasi a livello professionistico perché essendo che manca la Serie C2 di una volta adesso si può considerare una C2. Quindi arriveranno squadre blasonate, squadre importanti però noi credo non abbiamo niente a che impidiare con queste squadre, con la solita organizzazione nostra e la voglia di fare bene. Facendo un passo indietro, ma come hai realizzato quella quella con la San Cataldese che poi è stato lo Spartiacque per vincere il campionato? Se lo facessi un'altra volta ci riusciresti? No, mi sono chiuso gli occhi ed è riuscito, sicuramente la palla andava a finire anni scemi, no scherzo. Credo che sia stato un bellissimo gesto tecnico, anche credo fortunoso in quel momento perché si parlava di fine partita dove c'era un po' di stanchezza. Quindi è stato un insieme di cose che magari ripensando lo fai tante volte non so se riesce, quindi è andato bene così.